Nella creazione Dio dà tutto all'uomo. L'identità, che è la stessa di Dio, siamo creati a sua immagine e somiglianza, il dono del creato e del lavoro per portarlo avanti e custodirlo, e l'amore che comincia qui nell'uomo e nella donna. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando la prima lettura proposta dalla liturgia, il racconto della creazione dal Libro della Genesi. Con questi doni Dio ci ha dato l'identità di suoi figli, ci ha creati maschio e femmina per l'amore e ci ha dato tutta la terra, un lavoro per custodirla, e quando una persona non ha lavoro, le manca qualcosa che viene da Dio. Come lui ha lavorato nella creazione, ha dato a noi il lavoro, ha dato il lavoro di portare avanti il creato, non di distruggerlo, di farlo crescere. di curarlo, di custodirlo e farlo portare avanti. Ha dato tutto. Ma è curioso, penso io. Ma non ci ha dato i soldi. Abbiamo tutto. I soldi chi lo ha dato non so. Dicono le nonne che il diavolo entra dalle tasche, può essere. Possiamo chi ha dato i soldi. Ha dato tutto il creato per custodirlo e portarlo avanti. Questo è il dono. E finalmente Dio creò l'uomo a sua immagine. Maschio e femmina li creo.